Ciao, sono Giuseppe, mi occupo di revisione dei processi aziendali all'interno della SIRTI. Il progetto al quale ho partecipato aveva lo scopo di ridurre i tempi improduttivi e al tempo stesso di migliorare i livelli di servizio del contratto di manutenzione con uno dei nostri operatori telefonici. Il team di lavoro ha analizzato nel dettaglio il processo, i dati raccolti, alla ricerca delle cause e una volta individuate queste cause sono state elaborate una serie di iniziative e di proposte di miglioramento in cui effetti dovranno essere verificati. La metodologia utilizzata è quella dell'IN6 Sigma che arriva dal mondo produttivo industriale Toyota e Motorola ed è perfettamente adattabile anche alla nostra realtà. L'approccio Lean consente di eliminare gli sprechi e attività non a valore aggiunto, mentre l'approccio Six Sigma consente di ridurre la variabilità portando uno standard nella gestione. Credo che la metodologia presentata possa, in SIRTI, condurre a un sostanziale miglioramento del modello di lavoro in tutte le funzioni aziendali. Consente ci consente di pianificare le azioni valutandone preventivamente gli effetti ma soprattutto i rischi. Dobbiamo prendere coscienza che il cambiamento è inevitabile, i messaggi che provengono dall'esterno sono inequivocabili. Da una parte i nostri clienti che pretendono un miglioramento continuo, dall'altra un mercato che è sempre più competitivo. Possiamo essere sordi a questi messaggi, scendendo di essere statici e affrontando domani i rischi e i costi di questo cambiamento tardivo. Oppure possiamo decidere di cambiare oggi, adottando questa o un'altra metodologia. Oggi però anche abbiamo i tempi e i modi per pianificare le azioni migliori.